Può capitare lungo strade di Irpinia di vedere muri crollare, asfalto rifatto il mese prima squarciato dalle frame. Può capitare di non vedere nulla percorrendo di notte comunali e provinciali per l'assenza della pubblica illuminazione o che l'autostrada a 16 si blocchi in Irpinia in caso di neve, ora che il transito sarà ridotto ad una sola corsia per rifare le barriere sui viadotti aprendo i cantieri. Dell'apertura del ponte di Parolise proclami a parte neppure l'ombra. I lavori sono destinati a continuare almeno per un altro mese. Ieri sera di viabilità da paura si è discussa il raid, dai comuni la richiesta di sinergie per favorire i collegamenti. Il sindaco di Torrioni non ha mai sentito parlare di sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è legato alla natura. Questa nostra provincia decollerà, il turismo nella nostra provincia decollerà se facciamo sistema. Se non facciamo sistema e qui ognuno suonerà un pezzo di musica diverso. Sono un'appassionata di turismo ecosostenibile, quindi sono ben a conoscenza di questo genere di turismo. Sicuramente quando ho detto che viviamo del villaggio ecoturistico e ci sono delle difficoltà, non mi riferivo certo alla volontà di cambiare la morfologia di un territorio o intervenire per deturparlo. Credo che i nostri territori non abbiano nulla da invidiare a quelli toscani. Il problema è che in Toscana o in Trentino ci si arriva tranquillamente e quindi io vado a villeggiare in una località. Qui è questo che non è possibile perché anche a Torrioni sarebbe possibile fare una vacanza nel villaggio ecoturistico, però pensare che dei turisti possano arrivare, anche far arrivare un pullman in quella zona è complicato. Ovviamente io prendo atto e capisco bene quali sono i problemi del sindaco neoveletto, però io da Irpino e che l'Irpinia l'ha girata tutta palmo a palmo per motivi diversi, io questa sera sento parlare per la prima volta di questo villaggio a Torrioni. Scusatemi l'ignoranza, ma io non ho mai sentito nessuno che mi abbia raccontato di questo villaggio. Allora ecco perché la fase di ascolto, cari sindaci, diteci che cosa avete da valorizzare, perché noi siamo qua, cerchiamo questo, andrò a visitarlo perché non lo conosco. Sindaco, intanto abbiamo fatto una cosa buona, mettere in connessione, creare un collegamento e questo mi sembra poi un obiettivo centrato già a prescindere dalla trasmissione. Però il sindaco voleva fare un invito ufficiale? Certo, io l'aspetto, sarò veramente felice di ospitarla e di farle visitare il villaggio turistico ma anche altre zone bellissime di Torrioni.